Poi gioco a tratti, a tratti, perché vogliamo giocare troppo complicato. Se riusciamo a giocare un po' più semplice nel futuro, facciamo forse ancora meglio di oggi, però sono già contento perché la squadra del Volan, anche se in bassa classifica, ha una bella squadra. Se guardiamo un po' gli uomini che hanno, non sono così male. Per quello il 2-0 mi sta bene e ci dà ancora più fiducia per il futuro, per non vincere di più, per giocare anche meglio e per fare anche più belle figure che abbiamo fatto anche oggi. È stato anche bello vedere una squadra senza di lui. Credo che un verso avanti l'abbiamo fatto un granché, però se vedi un po' il primo tempo, 3-4 vuoti, siamo entrati nei 16 metri, all'ultimo siamo neanche riusciti a tirare. È quello che mi disturbava. Poi se tiri e sbagli, non fa niente, poi devi arrivare al tiro, che magari puoi segnare. Però è stata la prima volta senza di lui, abbiamo vinto, abbiamo fatto due gol, mi sta bene. Il Bebetto è più un giocatore per il contropiede. Non volevo, adesso volevo più qualcuno dentro che sa tenere la palla, che era diverso. Bebetto, se puoi fuori casa, se è anche fuori casa, lo butti anche dentro perché è veloce, si muove un po'. Ho preferito giocatori che tenivano più palla. Perfetto, grazie.